Una manifestazione contro l'abbandono e il degrado delle frazioni partita da Paiari di Sassa dal progetto Case per una passeggiata poi vera e propria attraverso i luoghi che almeno per Paiare rappresentano lo stato dell'arte. A manifestare raccogliendo l'invito di attivisti del posto diverse associazioni nelle loro articolazioni locali come Frazioni Fraintese, Paesi Nostri, Italia Nostra, Slow Food, Legambiente, Pronatura, Rifiuti Zero Abruzzo, Circolo Querenzia, Case Matte 332, oltre il MUSP, l'associazione di Amiterno Mollus, Osservatorio Nord-Ovest, Archeoclub e Proloco di Coppito. Diverse le problematiche che riguardano la frazione evidenziate da Querino Crosta di Frazioni Fraintese. Qui per esempio, oltre che della Sercom, abbiamo toccato altri nove punti, la viabilità, la mancanza di depurazione con gli sversamenti diretti contro ogni norma di legge nel fiume, nel torrente raio e nei boschi. È un problema sia di Sassa che delle frazioni alte, dei comuni limitrofi, Scopito, Lugoli, torni in parte. È l'abbandono dei cimiteri. Alcuni che ci stanno molto a cuore, più piccoli come ad esempio la scuola media di Sassa Scalo, per la quale noi come associazione abbiamo fatto una proposta al Comune, un patto di collaborazione che è in attesa di risposta. È ancora appunto la viabilità, la viabilità che ha interessato un percorso di partecipazione tra il 2015 e il 2016, che è stata annessa al preliminare del nuovo piano regolatore. Sulla tavola 21 c'è il tracciato che è stato progettato da tutta la cittadinanza che ha partecipato a quegli incontri, le associazioni, eccetera. È nel masterplan del nuovo polo scolastico. Abbiamo la mancanza, qui manca la raccolta differenziata, quindi i rifiuti che dovrebbero essere smaltiti come nel resto del Comune, qui invece vengono ancora gettati tutti insieme. Mancano le piazzole per la raccolta degli ingombranti, quindi il problema che si crea quando i cittadini incivili buttano materassi, ingombranti di ogni genere e anche rifiuti speciali dove non dovrebbero. L'obiettivo sarà portare poi questa manifestazione anche nelle altre frazioni. Uno dei problemi che di recente si è aggiunto è quello delle antenne poste davanti alla chiesa del XII secolo, sottoposta a vincolo paesaggistico dalla sovrintendenza. La passeggiata dei partecipanti è finita proprio sotto l'antenne. Tra l'altro la popolazione si è formato un apposito comitato che ha raccolto anche oltre le 1500 firme, è preoccupata anche per i possibili rischi per la salute delle persone. Presenti anche diversi consiglieri alla manifestazione Ferdinando Colantoni, Stefano Palumbo, Paolo Romano ed Elia Serpetti.